Corte dei Conti, Corte dei Conti ammonisce la città di Mazzara del Vallo l'amministrazione, ma di cosa si tratta? Nello specifico andiamo appunto a spiegare alla cittadinanza cos'è avvenuto. È avvenuto che la Corte dei Conti nell'esplendamento della sua attività di controllo degli enti locali, così come per quanto riguarda il comune di Mazzara del Vallo e per tutti gli altri comuni siciliani, ha rilevato e ha sottolineato una serie di criticità che riguardano i bilanci degli anni passati e che praticamente fanno riferimento al mancato rispetto di alcuni parametri che secondo la Corte dei Conti è importante rispettare per cercare di mantenere un certo equilibrio finanziario all'interno degli enti locali, quindi in questo caso anche per quanto riguarda il comune di Mazzara del Vallo. È chiaro che comunque trattandosi di rilievi di criticità che riguardano il rendiconto 2012 nello specifico atto che è stato poco fa e approvato dal Consiglio Comunale, si tratta comunque di parametri che rapportati a quello che è la situazione di oggi, che siamo a marzo 2015, sono parametri in parte già superati come criticità, in parte si è cercato e si è raggiunto un obiettivo di riduzione del gap rispetto a quello che ha indicato la Corte dei Conti e in parte laddove le criticità non sono state ancora superate si sta cercando di mettere in atto tutti quei provvedimenti e quegli impegni che ci porteranno per il 2015 e per gli anni a venire a cercare di rispettare queste criticità e questi rilievi che dalla Corte dei Conti sono stati chiaramente considerati. Si parlava di residui attivi, a cosa ci si riferiva? Ci sono una serie di parametri di criticità che riguardano i residui attivi sia di nuova formazione che di vecchia formazione, che riguardano anche i residui passivi, che riguardano anche una serie di spese che la Corte dei Conti ha posto dei limiti, ma su queste criticità alcuni punti sono stati superati, per esempio per quanto riguarda il parametro numero 2 per gli enti strutturalmente deficitarie, voglio ricordare e ribadire che comunque il Comune di Mazzara del Vallo non è stato considerato un ente strutturalmente deficitario in quanto ha rispettato 6 parametri sui 10 imposti previsti dalla Corte dei Conti, però per esempio sul parametro numero 2 che riguarda proprio il rapporto dei residui attivi di nuova formazione rispetto al totale delle entrate accertate è un parametro che per esempio nel rendiconto 2012 è stato rilevato dalla Corte dei Conti come criticità e che questa criticità già nel redigendo consuntivo 2014 è stata superata, nel senso che questo rapporto è sceso al di sotto della percentuale del 38% allora fissata dalla Corte dei Conti. Dico questo per dire che più che di misure correttive e di variazioni di bilancio in termini numerici si tratta di tutta una serie di osservazioni che chiaramente negli anni passati probabilmente non sono state rispettate ma che oggi rapportate a quello che è la situazione di oggi in parte sono rispettate in parte no e quindi oggi l'amministrazione con quell'atto che ha approvato in giunta e il Consiglio Comunale con l'atto che ha poco fa approvato ha preso atto di questo impegno e soprattutto l'amministrazione si impegna a un certo tipo di comportamento in materia contabile il Consiglio Comunale ha avallato questo e farà di tutto per controllare che l'amministrazione rispetti questi impegni.